Sì, buonasera dal Vaticano. In questo momento Papa Francesco è ancora all'interno dell'Aula del Sinodo con i 400 e oltre Vescovi italiani arrivati da ogni angolo d'Italia per la 69esima Assemblea Generale. Il Papa è al ritorno alle 16 da solo a piedi qui nella zona dell'Aula Paolo VI, accompagnato da Monsignor Antonio Caputo, Vescovo di Pompei. Si naturalmente ha salutato, come sempre ormai ci ha abituato, le guardie svizzere e prima di fare il suo ingresso nell'Aula del Sinodo, dove lo attendeva l'intera Chiesa italiana, il Papa ha voluto salutare 16 direttori degli uffici nazionali della CEI e loro vice. A loro ha parlato dell'importante lavoro nascosto che quotidianamente portano avanti, un lavoro che ha paragonato a quello di un albero, alle radici di un albero e alle fondamenta di una casa. Momenti intensi perché il Papa ha voluto salutare uno per uno ciascuno dei direttori degli uffici CEI e al direttore dell'ufficio della pastorale del mare ha chiesto di pregare per i suoi, perché lui non pecchi troppo. Questa è una delle nostre esclusive, ma ricordiamo che il Papa poi è entrato nell'Aula del Sinodo e ha tenuto un discorso che, per certi versi inatteso, sicuramente ha scosso in profondità ciascuno dei presenti. Un discorso in cui ha parlato soprattutto del rinnovamento del clero, tracciando l'idea e la figura del suo sacerdote, un sacerdote a cui ha detto che tutta la Chiesa si deve mettere in ascolto, un sacerdote capace di essere vicino, di non essere un burocrate, un anonimo funzionario, come abbiamo detto, ma soprattutto un sacerdote capace di farsi prossimo e di essere in comunione, in comunione con la Chiesa, in comunione con il Regno, appartenente anche a queste realtà.